Olè, un nuovo mese è iniziato e sapete bene che cosa vuol dire una nuova top app del mese quindi senza perdere altro tempo iniziamo subito con queste app per il vostro smartphone Android e iOS E ben ritrovati sul mio canale, ancora una volta un saluto da Simona Cosa? Perché sono vestito diversamente e perché sono in un altro mood diciamo eccetera perché questo video qualcuno tra di voi potrebbe averlo già visto o meglio una parte di questo video potreste averla già vista perché in realtà il top app era uscito a inizio giugno ma l'ho dovuto levare subito perché YouTube per un mio errore, me ne prendo tutte le responsabilità ha ben pensato di limitare quel video ai soli maggiorenni e soltanto a chi avesse fatto il login dall'app, il che vuol dire che praticamente tipo il 50% delle persone che mi seguono non sapevano fosse uscito il video top app perché non lo potevano vedere da nessuna parte quindi ho deciso di levarlo, di cambiare alcune cose e di ricaricarlo quindi benvenuti se è la prima volta che vedete questo video e bentornati se è la seconda tipo ma non perdiamoci in altre chiacchiere e iniziamo subito con il nostro video top app partendo da un'applicazione in esclusiva per Android che si chiama iTiny iTiny è una specie di raccoglitore di applicazioni social e non che permette di salvare spazio sul vostro smartphone il suo funzionamento è molto semplice e si vedete la registrazione schermo a fianco a me perché non vi posso mostrare lo smartphone che sta facendo girare l'app perché non è ancora uscito non ve lo posso ancora far vedere però iscrivetevi al canale se volete scoprire che smartphone è ma dicevamo è molto semplice perché una volta aperta avremo la possibilità di scegliere applicazioni come Facebook, Twitter, Instagram, YouTube che verranno emulate in versione Lite o in versione Web in questo modo noi possiamo fare il login sul nostro Twitter, Facebook, Instagram, quello che vogliamo ma allo stesso tempo non scaricheremo la vera e propria applicazione perché sì, il nostro account rimarrà ovviamente sull'app ma non verrà scaricata l'app intera utilizzerà la versione Web che certo pecca per alcune funzionalità magari le storie Instagram ad esempio che non si possono fare però beh per chi ha bisogno di spazio sullo smartphone è una manna dal cielo perché non bisogna scaricare mille miliardi di collegamenti, applicazioni Lite, niente di tutto questo a meno che ovviamente non vi servano proprio determinate funzioni delle app in questione ma soprattutto ce ne sono tantissime, tantissime perché ovviamente sono le versioni desktop delle app quindi io ve la consiglio, anzi straconsiglio se avete problemi di spazio o comunque se ci sono applicazioni che usate talmente poco che tanto non vi interessa di doverle scaricare completamente ma vi basta utilizzare una specie di collegamento che potete avere appunto sulla vostra app iTiny che è fatta veramente benissimo ci ho detto, ora passiamo alle prossime app e ridò la parola al me del passato se vogliamo chiamarla così e mi raccomando vi esorto ancora di più in questo video a condividerlo il più possibile per darmi una mano per riuscire a risolvere questo problema che mi sono creato da solo detto questo proseguiamo con il video e passiamo alla seconda applicazione per questo video che è un'app disponibile sia per iOS che per Android e si chiama Junker Junker è un'app molto molto carina che ci aiuta a fare la raccolta differenziata in base al nostro comune appena aperta l'app infatti sarà possibile scegliere il nostro comune di appartenenza anche se ahimè non tutti quanti i comuni hanno aderito all'applicazione o almeno non ancora ma non fa nulla perché anche se il vostro comune non ha aderito potete lo stesso usare l'app e come si usa? beh, basterà scansionare il codice a barre di un prodotto per sapere come differenziarlo e in quale cestino in quale cassonetto della differenziata va quel determinato elemento quindi ad esempio se scannerizziamo una bomboletta di insetticida ci dirà che la bomboletta va nell'indifferenziato mentre invece il tappo va nella plastica e oltretutto è anche possibile ricercare tramite ricerca appunto un determinato elemento se magari quell'oggetto che abbiamo a casa non ha il codice a barre io ormai sono quasi tre anni che vivo da solo e ancora non ho capito come differenziare le cose quindi questa applicazione vi aiuterà un sacco e so che molti altri studenti fuori sede sono nella mia situazione quindi prego vi ho appena risolto la vita passando poi ad un'applicazione disponibile in esclusiva per iOS è più che un'app un widget si chiama Speed Dial Widget Speed Dial Widget è appunto un widget che vi dà la possibilità di chiamare o aprire una conversazione su diverse app di messaggistica in rapidità infatti basta installare l'app, selezionare il widget da qui selezionare il nostro contatto che vogliamo richiamare in maniera veloce e dalle impostazioni possiamo scegliere un pool di diverse azioni da fare tipo chiamare al telefono, FaceTime, FaceTime Audio aprire i messaggi, Whatsapp o anche Telegram molto utile e soprattutto anche abbastanza carina esteticamente io mi sono messo qualche contatto qua e là ed effettivamente è super funzionale, ve la consiglio torniamo su Android, altra app in esclusiva che si chiama Quickify Quickify è un'app che ci dà la possibilità di avere un pulsante flottante richiamabile in tutta quanta l'interfaccia nel quale poi possiamo disegnare un simbolo una lettera, una forma che richiamerà in automatico altre app o altre funzioni possiamo infatti scegliere di fare, che so, una C per richiamare una determinata app mettere lo smartphone in vibrazione accendere il bluetooth chiamare qualcuno o aprire una pagina web insomma le azioni fattibili sono veramente tante e a differenza di molte altre app che magari fanno la stessa cosa ma con le gesture non si incasina con le gesture già presenti sul vostro smartphone perché qua bisogna proprio premere il tasto circolare che poi non dà neanche troppo fastidio è anche possibile cambiare la trasparenza del bottone la dimensione del bottone e anche ad esempio tenere premuto sul pulsante per farlo scomparire l'ho trovata davvero smart e so che per molti sarà veramente utile tornando poi al mondo iOS un'altra applicazione in esclusiva che si chiama Fast Past Keyboard che non è una tastiera normale infatti il suo funzionamento è molto particolare in pratica ci permetterà di tenere salvati alcuni testi come ad esempio io ho fatto con gli hashtag che uso su Instagram per intenderci e li potremo re-incollare quando vogliamo in qualsiasi punto del nostro smartphone Whatsapp, Note, eccetera eccetera salvate tutti i vostri testi più usati lì e ce li avrete sempre a portata di dito ah e sì poi ci sono anche delle emoticon fatte con i simboli a destra che potevano anche non esserci ci sono ok tornando poi ad un'app disponibile sia per Android che per iOS ragazzi questa è stata la mia salvezza come l'ho trovata ho iniziato a piangere probabilmente perché si chiama Cinder Cinder è un'app disponibile appunto sia per Android che per iOS e vi permette di smistare la vostra rubrica telefonica cancellando i numeri che usate di meno aprendo l'app l'interfaccia è molto semplice si può cestinare ottenere il numero che vi compare in sovraimpressione capisce quali sono i numeri che utilizzate di meno e ve li propone una volta messi nel cestino cancellando la cronologia del cestino verranno eliminati anche dalla rubrica app veramente semplicissima ma stavo cercando un'app del genere da una vita perché la mia rubrica è piena di numeri o duplicati o che mi sono salvato 20 anni fa perché ormai il backup del mio iPhone me lo porto dietro dal 2011 quindi direi che è straconsigliata e sono sicurissimo che molti di voi la scaricheranno e la trovate qui sotto in descrizione ultima app in esclusiva per Android molto molto carina devo dire se no ovviamente non l'avrei messa in questo video ma va si chiama Custom Volume Panel dal nome già avrete capito che cosa fa questa applicazione infatti sostituisce l'interfaccia dei diversi volumi che avete sul vostro smartphone Android con una skin differente e soprattutto personalizzabile la versione base ha poche personalizzazioni però devo dire che sono abbastanza carine ma soprattutto potete anche selezionare alcune impostazioni importantissime tra cui la possibilità di visualizzare tutti i miscelatori di volume semplicemente alzando o abbassando il volume con i tasti e anche quale dei volumi cambiare con i tasti come predefinito quindi se voi non volete mai e poi mai cambiare il volume della suoneria del vostro smartphone ma volete sempre solo ed esclusivamente cambiare il volume dei vostri contenuti multimediali lo potete fare ce ne sono veramente una miriade di applicazioni che fanno la stessa identica cosa però io ho provato questa l'ho trovata molto carina ve la consiglio però so benissimo che se andate a cercare ce ne sono veramente una miliardata ed infine ragazzi mi sono tenuto per ultimo una di quelle applicazioni che mi ha proprio svoltato perché lo vedete no? io ho il Mac Mini che come è logico aspettarsi non ha la webcam però è bruttissimo dover comprare una webcam piena di cavi, cavettini, super costosa, grandissima che non sai mai dove mettere oltretutto solo per usarla un paio di volte quando capita, quando serve beh, finalmente ho trovato un'app fatta benissimo per poter utilizzare il nostro iPhone come webcam si chiama Epoch Cam e oltretutto è un'applicazione fatta da Elgato quindi voglio dire anche ipercollaudata vi dà la possibilità di utilizzare il vostro iPhone come webcam sia su Windows che su Mac e anche nella sua versione base che non vi dà l'accesso ad alcune funzionalità come ad esempio lo Zoom o roba simile beh, anche nella versione base funziona benissimo è super stabile, incredibile non ha mai perso un colpo potete usare sia la fotocamera interna che quella esterna e soprattutto funziona con tantissime app funziona con XSplit, con OBS, con Microsoft Teams, con Skype, con Zoom e anche con Discord peccato che non funzioni con Google Meet quindi ve la lascio qui sotto in descrizione detto questo io spero che questo video vi sia stato utile mi raccomando fatemi sapere qui sotto nei commenti quale applicazione avete preferito e niente, noi ci rivediamo in un prossimo video sempre qui sul mio canale e ancora una volta un saluto da Simone ciao